E' vero, sono il capo cantoniere, sono contento di questo, ma sono contento che abbiamo vinto. Domenica, nonostante il gol, l'assist, sono arrabbiato perché hanno perso tre punti che lo dovevamo portare a casa. Oggi li abbiamo agognati alla fine, dobbiamo imparare a far gol al novantesimo così almeno sicuramente non subiamo rimonte. A parte gli scherzi, dobbiamo essere più concentrati perché comunque abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo avuto un blackout di 20 minuti nel secondo tempo dove ci poteva costare caro. Peccato, potevamo fare il 3-0 prima, è stato bravo anche Mirante a salvarci dall'occasione di Cacca a loro. Però poi alla fine questa squadra ci ha creduto, è una squadra che ha dimostrato di giocarsela con tutti. Penso che fino ad ora rispetto ai punti che abbiamo guadagnato ne abbiamo in meno rispetto a quelli che meritavamo, però dobbiamo continuare così, ci aspetta una serie di partite difficili, siamo partiti nel miglior dei modi. La strada è ancora lunga ma questa squadra dimostra che può farla bene con tutti. Senti, hai chiesto tu la maglia Cacca o lui l'ha chiesto a te? No, no, la maglia, siccome una dovevo darla già, una me la tengo, me la metto in baccheca e me la conservo, perché comunque è una giornata fantastica per me, quindi non posso fare altro che tenermela. La partita, cioè, in compresso la partita è più importante, perché comunque se ho fatto due gole e un assist, insomma, contro il Milan, diciamo che, insomma, quando ero piccolo ci ho sempre sognato, quindi penso di sì, sono veramente contento. Grazie. Grazie.